Hola a tutti ragazzi, è il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video davvero molto importante e significativo Perché dico questo ragazzi, come avete notato sicuramente dal titolo e anche qui in alto a destra Sono ritornato nel Mind Combat E perché ragazzi dico che è significativo? Perché il vecchio Mind Combat ha fatto la storia del mio canale Ma detto queste cose principali ragazzi, vi spiego perché appunto ha fatto la storia Praticamente ragazzi, per chi non mi conosce, giusto un anno fa ho portato questa serie sul mio canale E tramite appunto il Mind Combat ho fatto un bel po' di iscritti e un sacco di amici più che altro che tuttora parlo in TS Quindi ragazzi è stato davvero significativo sia per il canale YouTube sia per le nuove amicizie tramite internet e tutto quello che volete Quindi per me ha significato davvero tanto e ristarci qui dentro mi crea una bella sensazione Volevo dirvi una cosa ragazzi, prima di passare a tutto il resto e spiegarvi Per chi è interessato a giocare anche lui nel Mind Combat, l'IP lo trovate in descrizione sempre se mi ricordo E vi invito ad entrare nella città di Roma perché se non sbaglio da quando ho capito è formato da varie città E ho scelto Roma perché ragazzi noi siamo itali, cerchiamo Roma Però ragazzi per chi vuole ci sono anche altre città come ad esempio Sparta eccetera eccetera Ragazzi voi mi sentite un poco strano dal solito non tanto vivace perché davvero vi sento felice dentro E' una cosa incredibile perché non potete capire appena entrato quando è uscito da scritta benvenuto nel Mind Combat Quanti ricordi stupendi di un anno fa mi sono venuti in mente E' davvero una cosa davvero bellissima Detto questo ragazzi in cosa consiste questo nuovo Mind Combat? Da quando ho capito e da quando ho letto sul sito di Luke che per chi non lo sa ragazzi questo Mind Combat E' stato fatto da Luke4316 e VinciPixel collaborando appunto su ParkerCraft giusto per aprire questa parentesi E appunto sul sito di Luke che è del suo nuovo network diciamo così Ha pubblicato appunto le notizie riguardo del server E da quando ho capito ragazzi semplicemente è un server prison e fazioni misto Quindi ci sono entrambe le modalità da poter sfruttare Appena entrate infatti ragazzi nel server trovate questo libro che si chiama Tutorial Voi dite ah ma faccio Tutorial wewe E raga voi qui potete vedere tutto Vi sarà spiegato che cos'è il Mind Combat Il gameplay come si verrà strutturato diciamo così Infatti anche qui vedete la modalità del Mind Combat ti permette di vivere in contemporanea Le brezze di una fazioni mescolata alla fatica di un prison Quindi davvero una figata Poi ci sono anche i livelli economici ossia ti spiega un po' come guadagnare Poi ci sono altri comandi, comandi base E poi raga giustamente c'è il regolamento Il fatto che non si può craftare la TNT E le mele d'oro si possono ottenere soltanto votando oppure con i VIP Quindi ragazzi davvero una figata E' un'altra cosa molto molto bella come detto prima Siccome ci sono sia fazioni che quell'altro Si può andare sia nei warp pianura deserto e giugla Che nei vari tier Raga è davvero bellissimo questo Mind Combat Una cosa stupenda E se volete la serie raga mi raccomando Spolliciate tantissimo Cioè vedete adesso io rompo vabbè giusto per Faccio slash sell Come al vecchio Mind Combat metti qui quello che vuoi vendere E voilà 110 Ovviamente per rankare raga devo fare tipo 18.000 Ma devo dirvi la verità Ho scoperto solo ora che come vedete in alto a destra c'è anche l'ora Scusate il gioco dei parole Sono le 11 di sera E solo adesso ho scoperto che è stato aperto il Mind Combat E davvero raga sono contentissimo E spero che lo siate anche voi Andiamo anche alla warp pianura per mostrarvi anzi è warp deserto Perché il deserto è proprio deserto Non ci sa nessuna E guardate quanto cacchio è figo Anche i builder hanno fatto un lavoro incredibile Detto questo ragazzi Non ho nient'altro da dirvi per il momento Una cosa importante che vi chiedo È che lasciate tanti like E tanti commenti positivi Se volete che porti questa serie Per le altre serie che sono attive sul canale Su altri server In questo momento non ne parliamo Ne parleremo prossimamente in altri video Detto questo ragazzi mi raccomando Lasciate like se volete la serie Commentate Condividete Ma soprattutto iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima E ciao a tutti ragazzi